Il nuoto di fondo approda a Capaccio Pestum. È in programma domani mattina alle 10 in località Laura, nel tratto di mare antistante il Lido Dum Dum, una gara di nuoto in acque libere, valevole per il campionato italiano di nuoto di fondo e per l'assegnazione del trofeo Costa di Salerno. Spazio nel mare di Capaccio Pestum anche per il campionato regionale Endas, aperto a tutti, sui 200, 400, 600 e 800 metri. L'evento è stato organizzato dalle associazioni Blue Team Stabie e Punta Tresino con il patrocinio del comune di Capaccio Pestum.